Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, oggi siamo qui su Fortnite e oggi siamo qui per parlare dell'aggiornamento di oggi perché finalmente arriva una patch, non un content update ma una vera e propria patch ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, di fare la campanellina, lasciare un bel mi piace e condividere il video con tutti i vostri amici guardate il video nel cifro alla fine perché vi dirò tutte le novità che arriveranno nell'aggiornamento di oggi e probabilmente siccome non è un content update vi ricordo che dovrete scaricare un aggiornamento e poi ce lo dirà Fortnite precisamente ma intorno alle 9 e alle 10 si spengono i server intorno a quell'ora e poi si fa l'aggiornamento e quando i server vanno online si gioca quindi ragazzi ci sarà un cambiamento domani, cioè oggi per voi, la live non sarà alle 10 in punto come sempre ma inizierà quando i server andranno online di solito negli ultimi aggiornamenti i server andavano online verso le 11, 11 e mezza quindi io ragazzi andrò in live alle 11, 11 e mezza ovviamente poi recupereremo nel pomeriggio staremo più ore anche dopo di solito facciamo dalle 10 fino all'una di solito parliamo dalle 11 e mezza circa quando sarà fino a non lo so vedremo quindi io vi aspetto anche oggi live io direi basta parlare partiamo subito piccola premessa ragazzi se sentirete dei rumori probabilmente di trapani nel video purtroppo non posso farci nulla stanno trapanando ed è l'unico momento in cui posso registrare mi dispiace come sempre ragazzi ah tra l'altro scusatemi siamo in Risa Squadra fatemi sapere nei commenti se preferite i video delle news con clip sotto dove io sto fermo vi metto le clip e parlo preferite che gioco in Risa Squadra o preferite che gioco in Battle Royale fatemelo sapere voi qua sotto cioè in Battle Royale intendo singolo non build fatemelo sapere qua sotto nei commenti adesso ho fatto Risa Squadra perché siccome non è un video troppo lungo avevo la corona e non volevo perderla quindi sono in Risa Squadra e non avevo neanche le clip quindi era l'unico modo per fare questo video e allora la patch io se riesco vi metto anche l'immagine a schermo i leaker ci dicono tutto quello che dobbiamo aspettarci dalla patch 25.20 che è proprio oggi 25 luglio allora è possibile un ritorno del boomerang cinetico io ve le leggo tutte dopo ci soffermiamo arriverà probabilmente anzi no sapete cosa? cambiamo oggi ci soffermiamo piano piano su ognuna e il ritorno del boomerang cinetico ragazzi credo che sia tipo l'arma meno usata della story forn cioè nel senso meno hyppata anzi aveva un bel hype perché è l'arma speciale della season sapete no? in sto capitolo ogni stagione c'è un'arma speciale c'era il martello poi hanno fatto la katana molto bella anche quella secondo me è un po' sottovalutata e rovinata nel fine season della scorsa il martello sempre andato bene circa qualche bug ma niente di che questo boomerang ragazzi già dall'inizio non se lo cacava nessuno perché aveva l'utilizzo solamente di far danno eppure poco danno era una bella arma ci ho fatto anche un video abbiamo anche vinto dove usavamo solo quel boomerang mamma mia è stato molto complicato farlo e ma sinceramente ragazzi l'hanno rimosso tipo più di un mese fa non se l'è più cacato nessuno ma già prima non vedevo quasi nessuno che lo usava e adesso veramente ragazzi l'unica cosa che mi fa ricordare del boomerang è il fatto che nel torneo che facciamo che ho creato io e che facciamo nelle live lo usiamo perché c'è un livello fatto apposta col boomerang è l'unica cosa che mi ricorda di quel boomerang perché veramente non c'è da un botto e anche quando c'era comunque non so cacava nessuno veramente e quindi niente fate sapere se siete contenti del ritorno del possibile ritorno perché non è neanche detto del possibile ritorno del boomerang cinetico arriverà la pistola a leva quella che si vede ogni giorno appena aprite forment c'è la skin davanti a voi la skin lì come si chiama Lorenzo tipo la skin principale della schermata che tiene in mano proprio la pistola a leva quindi finalmente diciamo che arriverà e ok vedremo come sarà sinceramente non lo so speriamo che mi piaccia come mi piace il cecco nuovo il cecco a ripetizione che anche quello è a leva vediamo non ho aspettative altissime però ovviamente poi ci faremo tutti i video la proveremo anche in live si saprà in anteprima già dai leak poi dovrebbe anche apparire in game la crew di agosto non ho idea di quale possa essere la crew tra l'altro è quasi finito il mese io devo ancora prendermi la crew di questo mese e la voglio perché la skin mi piace ma non so se ce la faccio in tempo arriveranno poi i nuovi registri audio quindi arriveranno probabilmente le nuove sfide storia saranno queste credo ma sinceramente raga boh non so che dire cioè non mi sta interessando se posso dire la verità avevo aspettative molto più alte ok la season estiva non è una cosa che però cioè non è una scusa valida ecco poi ok che arriviamo da season dove la storyline è zero praticamente anzi non da season perché le season in realtà scorse ce l'avevano la scorsa season no cioè era proprio nulla la storyline abbiamo già parlato nei video appositi e quindi sta season sembrava tutta figa la slone torna oh mio dio ma preparano qualcosa magari per farci un bel evento o sta season magari no cioè ci sarebbe no probabilmente raga poi ne parleremo più avanti ancora più o meno presto per dirlo ma non credo che ci sarà un evento finale almeno io lo spero ma non credo proprio e quindi vedremo vedremo poi e vi farò sapere ovviamente dopodiché abbiamo il nuovo pacchetto scala livelli che arriverà probabilmente non subito domani cioè non subito oggi ma si sa credo non lo so eh si saprà già però dai leak tutto e poi uscirà nei prossimi giorni di solito esce di giovedì se non lo sbaglio boh non me lo ricordo vedremo non si sa ancora nulla appunto perché non si può ancora sapere nulla vedremo poi quale sarà lo scala livelli sinceramente a me non interessa sono a livello 339 al 400 ci arrivo tranquillamente ma ormai la season l'ho finita già da un bel pezzo e sinceramente non devo fare ancora nulla vediamo se lo skin mi piace magari me lo prendo non lo so e poi ragazzi arriveranno i nuovi potenziamenti che dovrebbero essere gli ottimizzatori e quindi questo questo e poi altro ancora ma altro ancora saranno qualche piccola novità qua e là diciamo si pensa delle possibili collab siccome d'estate verso questo periodo si fanno sempre si pensa delle nuove sezioni dello shop però niente di che non mi interessa non credo che vi interesse anche a voi magari delle collab si però boh queste ragazzi sono le novità di questa patch 25.20 fatemi sapere cosa ne pensate la seconda patch di questa stagione che siamo in questa season da un botto e wow ragazzi mi sembra strana come cosa il fatto che non abbiamo avuto una patch per veramente tanto 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 tempo ma adesso ne avremo una ma che non riempirà sicuramente il vuoto di questa stagione perché ne parleremo a fine season poi ragazzi io mi sto tenendo tutto anche se ogni tanto vi dico qualcosa mi sto tenendo tutto per il video di fine stagione dove ragazzi veramente saranno minuti dove veramente mi sfogherò del tutto perché questa stagione vabbè lo potete capire da soli no che non sta andando molto bene poi vabbè fatemi sapere con i commenti ragazzi cosa ne pensate delle novità che probabilmente arriveranno con l'aggiornamento di oggi vi ricordo che sono dei leak quindi nulla di confermato al 100% come vi ho parlato della pistola leva che arriverà oggi può essere anche che magari arriverà giovedì o arriverà martedì prossimo con un content update è successo me lo ricordo per esempio con la pistola della scorsa stagione la pistola d'aggancio doveva uscire in una patch alla fine è uscito il martedì prossimo quindi niente di che vediamo un po' capiamo che cosa succederà io vi ricordo che vi aspetterò in live ora non so gli orari precisi appena serve però torneranno online io vi aspetto almeno che la pace non la rimandino perché capiamo non è detto perché possono anche rimandarla è successo nel corso della scorsa stagione e anche di questa o di questa no però una scorsa sì quindi capiamo vediamo un po' poi vi farò sapere magari su instagram o con dei post community io comunque vi aspetto iscrivetevi al canale attivate la campanellina lasciate un bel mi piace condividete il video con tutti i vostri amici fatemi sapere cosa ne pensate di queste novità qua sotto nei commenti e ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live bella o in un prossima live o in un prossima live o in un prossima live